Ciao a tutti, prima di cominciare come al solito vi dico che per essere sponsorizzati dovete iscrivervi, lasciare like e commentare con la scia che ho sponsorizzato in maniera attiva al canale. E ora, buona visione! Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, sono Anna e ci siamo subito delle sponsorizzazioni. Ok, oggi per primo sponsorizzerò ManuTubeGamer che ha 211 iscritti, ha fatto video su Clash Royale, sponsorizzazioni pure lui, Minecraft, Rodeo Stampade, Speciale 100 iscritti, eccetera. Poi, AlexHD che ha 15 iscritti, ha fatto video su Clash Royale, vlog, poi ha fatto video top 5 cose che odio, challenge, eccetera. Ok, allora, ecco, Pierre10Lawyer che ha 510 iscritti, ha fatto video su Buon Natale, Clash Royale, vlog, il crime racing, troll, eccetera. Poi, poi, troll magic 79 che ha 60 iscritti, ha fatto video su Minecraft, poi Crash Royale, paper please, GTA 5, eccetera. Questo, questo è 50 iscritti, ha fatto video su Clash Royale, poi Tiger Balls, FIFA 17, fa molte intro, fa le intro, failcraft lion quix, 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 e infatti lui è quello che mi ha fatto la intro, poi speciale Halloween, eccetera. Sponsorizzazioni solamente adesso? No, la voglia sponsorizzata, poi me l'ha chiesto. Aiuto! Poi un'altra che devo sponsorizzare che adesso non troverò mai. Ecco, Samue e Ale, che ci hanno 185 iscritti, ha fatto video su... calcio. E basta, fanno soprattutto calcio, poi challenge, eccetera. Eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per i 410 iscritti, che sono 414. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate like, se non vi siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Oggi penso che caricherò più di un video perché penso di non essere... di non avere da fare. Penso che non abbia niente da fare, quindi riesco a fare i video. Anche con Lollodop, magari. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!